Il Comune di Sondrio alla ricerca di sponsor, soggetti privati disponibili a sostenere finanziariamente iniziative, eventi e manifestazioni che saranno organizzate da Palazzo Pretorio durante il 2019, ma anche spettacoli di vario tipo al teatro sociale nella stagione 2019-2020. Nei giorni scorsi l'amministrazione del capoluogo ha pubblicato un avviso che ha lo scopo di innovare l'organizzazione, migliorare e incrementare l'offerta culturale e turistica a cittadini e visitatori, nonché realizzare economie di spesa. Le casse degli enti locali, si sa, non dispongono di budget sontuosi per l'allestimento di eventi che non rientrano nei servizi primari alla collettività. Per questo il supporto di privati può essere fondamentale. Le sponsorizzazioni possono essere di natura economica sotto forma di elargizione di contributi, ma anche tecnica sotto forma di erogazione diretta di servizi o fornitura di beni, oppure di natura mista per lo stesso evento o iniziativa. Il Comune potrà consentire la presenza di più sponsor sullo stesso progetto, assicurando la contemporanea presenza di loghi o marchi sul relativo materiale promozionale. L'importo minimo viene stabilito in 500 euro. Il Comune inoltre, qualora ne rilevi la convenienza, si riserva di conferire al miglior offerente o ve richiesto la qualifica di sponsor esclusivo. Le offerte potranno riguardare tutti gli eventi già programmati alla data di pubblicazione dell'avviso, nonché quelli che saranno successivamente definiti dall'amministrazione comunale. Le offerte di sponsorizzazione dovranno pervenire entro le 12 del 3 giugno attraverso posta certificata all'indirizzo protocollo chiocciolacert.comune.sondrio.it per raccomandata postale o consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Sondrio, al piano terra di Palazzo Pretorio, piazza Campello numero 1, indicando sempre la dicitura avviso sponsorizzazione eventi 2019. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet istituzionale del Comune di Sondrio.